buongiorno a tutti iniziamo la nostra video lezione parlando dei diversi tipi di alimentazione che sono possibili per un circuito elettronico si tratta dell'alimentazione singola che vedete qua è dell'alimentazione duale preciso che il nostro sintetizzatore didattico utilizza un'alimentazione duale di 7,5 volte motivo per cui io utilizzo nell'esempio 7,5 volte qui abbiamo il caso dell'alimentazione singola si tratta di un solo generatore di tensione continua il cui polo meno è collegato alla massa quindi ecco che il polo meno corrisponde allo 0 volte e il polo positivo in questo esempio 7,5 volte possiamo infatti notare che il volmetro ci dà 7,5 volte questo invece è il caso di un'alimentazione duale si tratta concretamente di mettere in serie due generatori di tensione in questo caso entrambi di 7,5 volte e si parla quindi di alimentazione duale simmetrica attenzione potete vedere che il riferimento di massa è situato laddove il polo positivo del generatore inferiore si collega al polo negativo del generatore superiore quindi come vedete nella simulazione avremo un polo positivo a più 7,5 volte un polo neutro diciamo così di riferimento a 0 volte e un polo negativo di meno 7,5 volte quindi ricapitolando per l'alimentazione singola abbiamo 0 e più 7,5 volte per l'alimentazione tensione duale 3 cavi solitamente il rosso per il positivo nell'esempio più 7,5 volte il bianco solitamente per il riferimento di massa 0 volte e il nero per il polo negativo meno 7,5 volte abbiamo quindi qui nell'esempio una tensione duale di 7,5 volte 0 volte e meno 7,5 volte vediamo adesso perché nei circuiti elettronici si sceglie di utilizzare un'alimentazione singola piuttosto che un'alimentazione duale nel nostro corso ci occupiamo di elettronica per l'audio cioè di tutto quell'insieme di circuiti elettronici in cui molto spesso il segnale finale di adeguata potenza viene mandato a un autoparlante prima di proseguire il discorso sull'alimentazione singola e duale vediamo appunto come funziona l'autoparlante nell'interessante animazione vediamo un segnale in questo caso di forma sinusoidale che viene mandato all'autoparlante il segnale produce una corrente che circola nella bobina la indico qua in sezione con la manina una volta che la corrente circola nella bobina si realizza un campo magnetico variabile il campo magnetico variabile interagisce col campo magnetico del magnete fisso che sto indicando ora tutto questo fa sì che quando l'autoparlante è interessato e investito dalle semionde positive il cono rispetto alla posizione centrale che mantiene in assenza di segnale ha un'estroflessione verso l'esterno quando l'autoparlante è raggiunto dalle semionde negative rispetto alla posizione di riposo si ha un'estroflessione verso l'interno questo movimento del cono impresso alla massa d'aria circostante dà luogo al suono che noi possiamo udire quindi questa animazione ci insegna che un'autoparlante deve essere raggiunto da un segnale alternato avente cioè parti positive e parti negative nell'esempio in figura possiamo osservare il funzionamento di un amplificatore operazionale montato in configurazione invertente essendo le due resistenze della configurazione invertente entrambe da un kilom realizzeremo un'amplificazione di 1 nell'esempio l'alimentazione è di tipo singolo a 7,5 volt concretamente nel simulatore questo significa impostare la tensione minima di uscita dell'operazionale a 0 volt corrispondente ai 0 volt del polo negativo e la tensione di uscita a 6 volt in quanto essendo l'alimentazione da 7,5 volt dobbiamo considerare che l'uscita non raggiunge mai in un operazionale reale l'intera alimentazione ma vi è una caduta all'interno dell'operazionale stesso di circa un volt e mezzo nella simulazione possiamo osservare in viola il segnale sinusoidale d'ingresso che è di frequenza 1 kHz e ampiezza 1 volt e in verde il segnale in uscita sulla resistenza da 8 ohm che simula l'autoparlante 8 ohm perché impedenze classiche degli autoparlanti sono 8 o 4 ohm possiamo osservare della simulazione che in uscita otterremo solo le semionde positive le semionde positive sono in concorrenza delle semionde negative in ingresso ricordiamo infatti che si tratta di una configurazione invertente cioè a semionda positiva in ingresso dovrebbe corrispondere semionda negativa in uscita e a semionda negativa in ingresso la semionda positiva in uscita effettivamente questo lo possiamo constatare per ciò che riguarda le semionde negative in ingresso la semionda negativa in ingresso corrisponde una semionda positiva in uscita di stessa ampiezza in quanto l'amplificazione è 1 però possiamo vedere in questo caso che a semionda positiva in ingresso corrisponde una tensione nulla in uscita questo effetto di tosatura per il quale il segnale di uscita ha solo semionde positive è dovuto proprio al fatto che l'amplificatore operazionale è alimentato con una tensione singola la tensione singola fornendo solo il più 7,5 volt e lo zero non permetterà infatti che l'uscita vada sotto la tensione zero cioè che si possano ottenere in uscita semionde negative questo ci insegna che non è possibile trattare un segnale audio abbiamo visto prima nel caso dell'autoparlante un segnale audio deve essere alternato stavo dicendo non è possibile trattare un segnale audio in questo caso con l'operazionale utilizzando l'alimentazione singola perché questo produrrebbe la tosatura di tutte le semionde negative in uscita in questo nuovo esempio l'amplificatore operazionale montato in configurazione invertente con guadagno unitario è alimentato come indico qua con questi generatori con la tensione duale tenete presente che il generatore d'ingresso e l'autoparlante in uscita hanno come riferimento la massa e non il meno vcc concretamente impostiamo nel simulatore l'alimentazione duale dell'operazionale indicando come limite di uscita massimo 6 volt e minimo meno 6 volt ho già detto prima che in un amplificatore operazionale reale l'uscita non può raggiungere il massimo valore di alimentazione ma c'è una caduta sull'amplificatore operazionale stesso di circa un volta e mezzo potete verificare ora che utilizzando l'alimentazione duale l'amplificatore operazionale può fornire in uscita oltre che le semionde positive anche le semionde negative in particolare essendo questo un amplificatore invertente a semionda negativa in ingresso corrisponde semionda positiva in uscita e a semionda positiva in ingresso corrisponde semionda negativa in uscita effettivamente il segnale di ingresso a ampiezza massima 1 volt e anche il segnale di uscita a ampiezza massima 1 volt questo è corretto in quanto l'amplificatore nell'esempio ha un guadagno di tensione unitario essendo le due resistenze della configurazione dello stesso valore eccoci quindi pronti per iniziare lo studio del funzionamento di questo sintetizzatore didattico secondo il modello di Moog oppure secondo il principio della sintesi sottrattiva che a spunto stato inventato da Moog negli anni 70. Lo schema blocchi che vedete in figura rappresenta la parte di circuito montato sulla prima scheda e la parte di circuito che si occupa della generazione del WC. Vedremo dopo più in particolare che cosa sono le tensioni WC e WC gate. Ora iniziamo in questa lezione a studiare il funzionamento di questa prima scheda WC generator concentrandoci in particolare sui blocchi della parte superiore che vi sto adesso indicando con il cursore. I blocchi della parte inferiore si riferiscono ai generatori di ADSR e li tratteremo nella prossima lezione. Quindi in riferimento ai blocchi della parte superiore vediamo il corrispondente circuito elettrico. Si tratta di questo circuito. Oggi in particolare però ci concentreremo sulla sulla struttura e sul funzionamento del gruppo tastiera. Il gruppo tastiera è quello indicato in questo circuito. Questi pulsanti rappresentano i tasti della tastiera del sintetizzatore. Trattandosi di 12 pulsanti corrispondono alle 12 note di un'ottava. Si tratta quindi del WC generator relativo alla tastiera di un'ottava. In particolare questa parte che sto inquadrando che contiene il gruppo tasti, i trimmer di regolazione e i relativi diodi corrisponde sullo schema blocchi a questo primo schema, il gruppo pulsanti, che in uscita genera la tensione WC e l'accensione WC gate. La tensione WC è una tensione, come vedremo dopo più specificatamente, che nel modello di MUG comanda il funzionamento di tutti i blocchi e quindi di tutte le schede circuitali che seguono. Vediamo quindi di approfondire questo primo blocco che è quello che trattiamo nella lezione di oggi. Innanzitutto l'alimentazione, un'alimentazione simmetrica di 7,5 volte, simmetrica perché la tensione positiva e la tensione negativa sono di pari valore, cioè 7,5 volte, di tipo duale. È chiaro che trattandosi di un sintetizzatore musicale, il segnale sonoro elaborato in forma elettronica verrà infine mandato agli autoparlanti. Sulla base di ciò che è stato detto prima, l'autoparlante deve essere interessato da un segnale di una qualunque forma, non per forza sinusoidale, ma avente sia onde positive che negative ed è quindi necessario per un corretto funzionamento l'utilizzo dell'alimentazione duale. Nello schema elettrico possiamo osservare l'alimentazione duale, più 7,5, meno 7,5 e GND. Inoltre sul blocco troviamo le tensioni Vc e Vcgate. La tensione Vc o Voltage Control è una tensione continua che dipende dal tasto che viene premuto sulla tastiera. Ogni tasto avrà una specifica tensione di controllo. Il valore della tensione di controllo è stabilito dal trimmer di tuning. Potete infatti vedere sullo schema che per ogni ramo vi è un pulsante che corrisponde a un tasto e su quel ramo vi è un trimmer regolando il quale decidiamo il valore della tensione Vc di controllo di quel pulsante. La tensione di controllo che dipende quindi dal tasto premuto viene poi mandata alle altre parti del circuito che tramite questa sono in grado appunto di determinare quale tasto è stato premuto. Sullo schema elettrico la tensione di controllo è raccolta su questo ramo ed è poi inviata a questo amplificatore operazionale. La tensione Vcgate è sempre una tensione continua ma il suo valore non dipende da quale tasto viene premuto. Qualunque tasto venga premuto viene generata la tensione Vcgate che ha sempre lo stesso valore e viene mandata al resto del circuito proprio per indicare che un qualunque tasto è stato premuto. nello schema blocchi la tensione Vcgate è indicata qua e corrisponde sul circuito a questa linea che è il filo sul quale verrà raccolta la Vcgate di qualunque tasto della tastiera venga premuta è inviato a questo condensatore. Vediamo in questa tavola il significato della tensione Vc e della tensione Vcgate. La tensione Vc o Voltage Control è una tensione specifica dello schema ideato da Moog. Si tratta di una tensione continua il cui valore dipende dal tasto della tastiera che viene premuto e che controllerà i blocchi seguenti del sintetizzatore. Questi blocchi sono il Vcf o filtro controllato in tensione in cui la tensione continua Vc controlla la frequenza di taglio del filtro, il VcO o oscillatore controllato in tensione in cui la tensione di controllo Vc controlla la frequenza di oscillazione e il VcA o l'amplificatore controllato in tensione in cui la tensione di controllo Vc controlla l'amplificazione del VcA stesso. La tensione Vcgate invece è una tensione sempre continua il cui valore non dipende dal tasto premuto qualunque sia il tasto della tastiera che premiamo il valore di Vcgate sarà sempre lo stesso e questa tensione indica semplicemente che è stato premuto un tasto della tastiera. In questa fotografia la realizzazione della scheda del CV generator che corrisponde allo schema blocchi già visto. Vediamo dove si situano sulla breadboard i diversi gru. Qui il gruppo tastiera con i 12 pulsanti associati alle 12 note dell'ottava pulsanti che ritroviamo sullo schema elettrico. Ai pulsanti associati i diodi che confluiscono sulla linea del CV gate. I diodi sono questi e confluiscono tutti sul CV gate. Sempre sullo schema elettrico possiamo osservare i 12 trimmer di tuning con i relativi diodi che confluiscono sulla linea del CV. Vediamoli sulla foto. Ecco i gruppi 12 diodi e resistenza che confluiscono sulla linea del CV e gli associati trimmer di tuning. Possiamo poi trovare inoltre la realizzazione dei blocchi di portamento rese di nota e memoria di nota, blocchi che studieremo nella prossima lezione che si trovano sulla scheda in queste posizioni rappresentate nella foto. Qui evidenziata in blu la parte di circuito relativa al gruppo tastiera. I 12 pulsanti che potete osservare sono relativi alle 12 note di una tastiera musicale. Potete osservare che il gruppo tasti è composto da una sequenza di rami tutti uguali messi in parallelo e indipendenti tra di loro perché situati agli estremi dell'alimentazione. Si può quindi aggiungere un ulteriore gruppo identico in parallelo per avere per esempio una seconda ottava, una terza ottava e così via. Questa linea è quella in cui viene raccolta la tensione di controllo WC che dipende dal tasto premuto. Questa tensione viene introdotta in questo amplificatore operazionale. Su quest'altra linea si raccoglie la tensione WC gate mandata come già mostrato a questo condensatore. Sul simulatore per facilità di comprensione ho riportato solo il ramo relativo a due pulsanti, possono essere due note qualunque, per esempio DO e DO diesis. In verde la linea su cui si raccoglie il WC gate che va al condensatore che vi ho mostrato nello schema elettrico, si tratta di questo condensatore. Invece in giallo la linea su cui si raccoglie la tensione WC che entra in questo amplificatore operazionale che sullo schema elettrico come mostrato precedentemente corrisponde a questo operazionale. Qui nel simulatore dello schema tastiera osservato in precedenza vediamo solo due rami relativi a due tasti della tastiera cioè due note potrebbero essere DO o DO diesis o qualunque altre due note. Effettivamente possiamo fare il paragone con lo schema elettrico che è sempre a vostra disposizione. Su questa linea viene raccolto il CV gate che è indirizzato al condensatore che vi ho mostrato prima invece su questa linea è raccolta la tensione CV che entra nell'amplificatore operazionale che vi ho sempre mostrato prima nello schema. Ci approcciamo quindi a vedere come funziona la produzione della tensione CV e della tensione CV gate utilizzando sul simulatore due soli pulsanti cioè solo due tasti della tastiera ma le considerazioni fatte per questi due pulsanti potranno essere estese a tutta la tastiera e permetterci quindi di comprendere come funziona tutta la tastiera e il blocco di generazione CV gate e CV associato. Ecco indicata in verde nella simulazione la linea del CV gate ogni volta che si preme un pulsante della tastiera si realizza il circuito osservato nella simulazione cioè questo polo direttamente a contatto col più 7,5 volt produce lo scorrere di una corrente nel primo diodo in relazione al primo pulsante e questo come vedete nella simulazione realizza ai capi della resistenza di carico di 10 kilom la presenza di una tensione il cui valore sarà proprio quello dei 7,5 volt di alimentazione a cui si sottraggono nella simulazione vedete il primo diodo in cui scorre la corrente a cui si sottrae appunto la tensione che cade sul primo diodo circa 0,7 volt. Questo produce, lo vedete sul volmetro al fondo del circuito, una tensione CV gate di 6,8 volt circa potete facilmente osservare che questa tensione di pari valore è prodotta qualunque tasto io della tastiera vado a premere nell'esempio abbiamo solo due tasti ma potrebbe essere un numero indefinito, non cambierebbe nulla qualunque pulsante io prema si viene a realizzare su questa resistenza di carico a 10 kilom una tensione CV gate di circa 6,8 volt la resistenza di carico è indispensabile perché osservate come scorre la corrente proprio attraverso la resistenza di carico da 10 kilom la corrente va verso massa se non ci fosse questa resistenza da 10 kilom nessuna corrente potrebbe scorrere è il diodo interessato per questo pulsante parliamo di questo diodo e per quest'altro pulsante di questo diodo il diodo interessato non potrebbe essere percorso da nessuna corrente osservate nella simulazione la corrente che percorre il diodo e poi percorre la resistenza di carico di 10 kilom per andare a massa stavo dicendo non ci fosse la resistenza da 10 kilom nessuna corrente potrebbe scorrere nel diodo e quindi il diodo stesso non potrebbe entrare in conduzione ecco quindi vedete che premendo un qualunque tasto della tastiera si produce sulla resistenza di carico come osserviamo sul volmetro una tensione CV gate di circa 6,8 volt osservate ora la linea evidenziata in giallo a cui ho collegato un volmetro si tratta della linea in cui viene prodotta la tensione di controllo CV ogni ramo relativo a un pulsante quindi a un tasto della tastiera contiene un potenziometro e una resistenza ogni volta che verrà premuto il pulsante il potenziometro sarà connesso direttamente a più 7,5 volt da un capo e tramite l'altra resistenza a meno 7,5 e sul cursore si potrà quindi prelevare una tensione continua il cui valore dipende dalla posizione del cursore stesso se quindi per ogni pulsante andiamo a tarare il potenziometro in realtà saranno dei trimmer trimmer perché in fase di taratura stabiliscono qual è la tensione CV per ogni nota cioè per ogni pulsante stavo dicendo ognuno di questi trimmer relativi a un tasto della tastiera verrà tarato di modo da produrre la tensione continua CV che mandata alla sezione di oscillatori produrrà un'oscillazione di frequenza esattamente corrispondente alla nota che noi vogliamo ottenere schiacciando il tasto anche sulla linea del CV al fondo di tutti i diodi relativi alla linea stessa abbiamo una resistenza di carico da 10 Kilo il motivo della presenza della resistenza stessa è quello che ho detto prima se non vi fosse questa resistenza ogni volta che premo un pulsante osservate lo scorrere della corrente nessuna corrente potrebbe percorrere il diodo interessato il quale non potrebbe andare in conduzione osserviamo ora quindi nella simulazione il valore della tensione CV raccolto qui nella linea evidenziata in Viola potete vedere che a differenza di quanto avveniva col CV gate ogni volta che io premo un pulsante sulla linea CV si viene a realizzare una tensione continua che permane fin tanto che tengo premuto il pulsante ma a differenza di prima non è una tensione che ha sempre lo stesso valore ma un valore che dipende dal pulsante che vado premendo questo valore io lo posso anche modificare cambiando la posizione del cursore ora ho portato più in basso il cursore di questo trimmer e potete osservare che rispetto a prima otterrò premendo il pulsante relativo una tensione minore in sintesi quindi su questa resistenza di carico raccoglieremo la tensione CV gate che adesso è evidenziata in verde la tensione CV gate vale lo stesso valore guardate la simulazione verde ogni volta che premo un tasto qualunque in Viola invece la tensione CV il cui valore non è lo stesso ogni volta che premo un tasto ma dipende dal tasto premuto quindi in sintesi la tensione CV gate informa il circuito che è stato premuto un pulsante un tasto qualunque della tastiera mentre la tensione CV dice al circuito con precisione quale pulsante è stato premuto in quanto per ogni specifico pulsante abbiamo una specifica tensione che possiamo decidere posizionando nella posizione da noi desiderata il cursore del trimmer relativo per concludere la spiegazione relativa alla scheda CV generator diamo adesso delle informazioni relative alla presenza dei diodi tanto sulla linea del CV gate sono questi due diodi tanto sulla linea del CV per comodità di spiegazione ho sostituito nella simulazione il primo pulsante con un interruttore qualora questo primo pulsante venga premuto ma analogo discorso varrebbe per qualunque pulsante potete osservare il percorso della corrente che attraversa il primo diodo e si riversa sulla resistenza di carico del CV dove possiamo vedere in verde ovviamente preleviamo una tensione di 6,8V che è tale qualunque tasto della tastiera si prema non ci fosse questo secondo diodo la corrente potrebbe percorrere il primo diodo e non indirezzarsi solo verso la resistenza di carico ma tornare all'indietro qua secondo questo percorso che ora non è possibile perché la corrente non può entrare nel catodo di un diodo e uscirne dall'anodo e ad andare a interferire come vi mostro col cursore sulla produzione della tensione CV quindi la presenza di questi diodi sulla linea CV gate si giustifica con la necessità di non interferenza di ogni pulsante rispetto all'altro nella produzione del CV gate stesso un analogo discorso lo possiamo fare per ciò che riguarda i diodi della linea CV osservate come scorre la corrente nella parte di circuito relativo alla generazione del CV stesso nella simulazione in verde la tensione CV gate su questo resistore di carico e in viola la tensione CV su quest'altro resistore di carico possiamo osservare che mutando il valore del trimmer relativo alla linea in questione possiamo produrre dei mutamenti della tensione CV in viola mentre non muta la tensione CV gate in particolare osservate come scorre la corrente sulla linea CV parte dal generatore attraversa il trimmer imbuca il cursore attraversa il primo diodo e si riversa sulla resistenza di carico non ci fosse quest'altro diodo la corrente potrebbe girare verso l'alto cosa che non può fare perché trova il cattolo del diodo imbucare il cursore del secondo ramo e andare verso GND si avrebbe quindi così facendo un'interferenza di ogni ramo di produzione della tastiera CV di produzione del CV della tastiera rispetto agli altri rami questo non è desiderato perché i dati di CV gate e CV prodotti da ogni singolo pulsante non devono produrre interferenza con gli altri rami della tastiera stessa veniamo infine a una sintesi di ciò che abbiamo visto nella lezione di oggi ci stiamo occupando della scheda CV generator e in particolare della parte superiore che sto inquadrando col cursore la quale corrisponde a questo schema elettrico nello specifico ci siamo occupati del primo blocco che è questo che corrisponde alla parte evidenziata in blu sullo schema elettrico ed è il gruppo tastiera abbiamo visto anche sul simulatore come funziona tutto ciò considerando per semplicità due soli rami relativi a due soli pulsanti della tastiera voglio dirvi perché è stata scelta un'alimentazione duale di 7,5V duale abbiamo già detto perché è necessario trattare un segnale audio da mandare agli amplificatori e agli autoparlanti infine 7,5V perché fra i due estremi cioè fra il polo negativo e il polo positivo abbiamo 15V si tratta di una tensione limite di funzionamento per integrati come quelli usati nel circuito del sintetizzatore che hanno come limite massimo solitamente sui 18V se io avessi usato due generatori da 9V sarei andato molto vicino a questi limiti con la possibilità di mettere in pericolo il funzionamento dei circuiti in verde sia sullo schema elettrico sia nel simulatore la linea di generazione del CV gate mentre in viola la linea del CV abbiamo visto che ogni volta che si preme un tasto della tastiera vengono generate contemporaneamente la CV gate in verde e la CV in viola la tensione CV gate ha sempre lo stesso valore all'incirca 6,8V qualunque sia il tasto che è stato premuto in viola invece la tensione CV che ha un valore specifico per ogni tasto vedete questo è un valore basso questo è un valore più alto valore specifico che viene regolato agendo sullo specifico trimmer di taratura o trimmer di tuning come vediamo nello schema blocchi nella prossima lezione vedremo il senso l'utilità e il funzionamento dei blocchi che costituiscono ancora la parte superiore della scheda CV generator grazie